Sì, assolutamente. Sono in un ottimo momento. Hanno fatto sette punti nelle ultime tre partite, vincendo a Vercelli, un campo difficilissimo. Quindi è una squadra ancora viva che vuole vendere cara la pelle fino all'ultimo per cercare di salvare la categoria. Hanno vissuto due stagioni completamente diverse l'anno scorso rispetto a quest'anno. Però noi dobbiamo anche cercare dopo la partita di Ferrara, che era una partita chiaramente più difensiva, più cercare anche di portare a casa un risultato positivo come poi abbiamo fatto la partita di domani e dobbiamo cercare di vincere. Quindi sarà una partita che dovremo fare noi, dovremo dittare i tempi, dovremo cercare di essere bravi a livello tecnico, sbagliare poco e soprattutto dovremo essere bravi a concretizzare le occasioni che avremo. Anche per cambiare questo trend in casa, che non è magari così positivo come in trasferta. Sì, è un po' diverso rispetto all'anno scorso. L'anno scorso l'Ascoli fuori faceva molta fatica e in casa riusciva a rimediare vincendo un po' più spesso. Quest'anno stiamo facendo molto bene fuori, addirittura siamo forse la prima o seconda squadra come rendimento esterno e quindi in casa dobbiamo cercare di cambiare marcia. È vero che abbiamo trovato anche squadre molto forti in casa, gli scontri diretti li abbiamo avuti spesso fuori. Quest'aspetto chiaramente cambierà nel giorno di ritorno, avremo tanti scontri diretti in casa, partire da domani sarà importante cercare di vincerli. Tra domani e martedì noi dovremo sicuramente cercare di mettere del fianco in cascina importante per il nostro futuro. Con un occhio al recupero contro la Provercelli e anche la partita di Vicenza di sabato, se ci possono essere qualche cambio all'interno della formazione, Gigliotti è pronto, ha giocato bene a Ferrara o anche i nuovi arrivati? Sì, ma è normale che il gruppo sta bene, stanno bene tutti e Gigliotti ha dimostrato che tipo di giocatore è, è un giocatore importante, però noi dobbiamo intanto rimanere concentrati sulla partita di domani e cercare di fare una grande partita. Poi a quella di martedì e di sabato ci penseremo dopo e vedremo anche quali saranno le situazioni, le valutazioni e tutto il resto. La parola turnover a me non piace tanto, è normale che in certi ruoli qualcuno potrebbe anche rifiatare, però prima di pensare, come ho detto, alla partita di martedì noi dobbiamo rimanere veramente concentrati e voglio vedere domani il gruppo che dà l'anima, tutto il gruppo per venire a capo di una partita che ci potrebbe regalare poi anche delle soddisfazioni permettendoci di allungare soprattutto intanto da quelle dietro e battendo in uno scontro diretto una squadra che probabilmente rimanerebbe molto distaccata da noi sarebbe difficile che a quel punto lì per quello che ci riguarda ci possa riprendere. Chiudiamo con Caccia e Bianchi, uno fermato dalla febbre e poteva essere convocato, l'altro non è ancora pronto, forse non è giusto rischiarlo in questo momento. Sì esatto, Caccia purtroppo ha avuto la febbre, era rientrato in gruppo mercoledì e stava comunque piano piano rinserendosi e poi è stato fermato dall'influenza quindi vediamo se riuscirà a recuperare per il martedì ma la vedo molto difficile perché comunque è già quattro giorni, tre giorni che ha la febbre. Tommaso invece è in gruppo però è normale che ancora non è al 100%, non vogliamo rischiare niente dopo che ha avuto questa ricaduta contro il Bari anche perché un ulteriore problema potrebbe veramente far eslittare di tanto il suo rientro. Quindi l'importante in questo momento è che lavori bene, lavori col gruppo cerchi di aumentare la sua condizione fisica e poi se non è questa è la prossima averlo a disposizione perché come ho detto entrambi sono giocatori importanti e sarebbe molto importante che stessero in gruppo con continuità. Grazie Grazie Grazie